Non si sono fermati neanche davanti alla postazione del 118 ieri. Infatti l'Adrian ha portato via i cavi del sistema di alimentazione elettrica. La postazione nella struttura, ridosso all'ex mattatoio comunale, è rimasta così senza corrente. Impossibile svolgere l'attività senza il contatore che consentiva le forniture d'energia. Anche il cancello elettrico della postazione è andato in blackout, bloccata la centralina di smistamento delle chiamate e anche l'erogazione dell'acqua. Un disagio enorme è andato avanti per oltre 12 ore per una postazione fondamentale nei casi di emergenza. I malviventi sarebbero entrati in azione in pieno giorno, protetti dalla vegetazione incolta della zona, e avrebbero agito sui contatori posti all'ingresso dell'ex mattatoio, sul lato opposto rispetto all'entrata delle ambulanze. Qui in pochi minuti hanno fatto piazza pulita di diverse decine di metri di cavi di rame, lasciando al buio non solo l'illuminazione pubblica, ma anche e soprattutto la centrale operativa. All'inizio gli operatori hanno pensato a una normale interruzione della corrente, legata a qualche guasto, ma dopo diverse ore hanno allertato la Gelas, che non ha potuto fare altro che constatare il furto. I tecnici della municipalizzata hanno ripristinato l'impianto già questa mattina. Per fortuna nella notte non ci sono state emergenze, che con la centrale priva di corrente sarebbe stato complicato poter gestire al meglio. La sede attuale del 118 è di proprietà del comune, che è stato immediatamente allertato e ha presentato formale denuncia alle forze dell'ordine, che adesso acquisiranno anche le immagini della videosorveglianza della zona.